Io non so nemmeno perché la stia facendo sta lista, la parte 1 è stata più che demonetizzata, è stata presa e messa direttamente al rogo come un eretico qualsiasi nel medioevo, voi non l'avete credo neanche vista, ma non si può mica bruciare un'idea, giusto? E perciò imparate a diffidare dei falsi profeti, pedanti, perpetuo e deluse che non siete altro, io ci riprovo, mal trovati su WatchMojo Italia e ovviamente su Mojo Crime, dove oggi questo guru dell'intrattenimento polemico sta per annunciarvi un'altra top 7 culti e 7, scusate il gioco di parole, da cui stare assolutamente alla larga. Vorrei potervi confermare che, come vi accennavo, è una parte 2, ma la parte 1 non so che fine abbia fatto, se la trovate su questo canale godetevela, rispiegandomi brevemente, preparatevi a una serie di culti religiosi minori che davvero se li conosci li eviti e ti iscrivi all'unione atei agnostici razionalisti subito dopo, ma sappiate che non basta il suicidio rituale per includere questa o quella dottrina qui in mezzo, sarà necessario che vi siano almeno state accuse di omicidio e robe scabrose, e vi assicuro che in questo non ci saranno proprio problemi. Ma ora via da una già vista, ma meglio ripetevi le cose una seconda volta, numero 7, l'Ordine del Tempio Solare. 1984, il dottor Luc Jure e l'uomo d'affari Joseph Di Mambro fondano nel cuore della Svizzera l'Ordine del Tempio Solare. Che potevano saperne di culti e riti, un dottore e un businessman nel pieno tempo dell'ogliuppismo mondiale? Ispirati dagli insegnamenti dell'Ordine Hermetico dell'Alba Dorata, no, il partito nazista greco non c'entra niente, e dal Lordo Tempio Orientalis? Ma anche dall'estetica e dall'impostazione dei cari vecchi templari che non mancano mai, i due pseudoprofeti rivendicarono una dottrina tendente ai culti apocalittici e ad una seconda venuta sulla terra di Gesù Cristo, definito anche dagli stessi profeti il Dio Re del Sole. All'apice della sua diffusione, l'Ordine vantava più di un migliaio di membri sparsi per la Francia, il Canada e ovviamente la Natia Svizzera. Nel settembre 1994, Di Mambro ordinò da alcuni fedeli della sezione canadese in Quebec di disfarsi, leggasi uccidere, dei coniugi Antonio e Nichi Robinson Dutois, insieme al loro figlioletto, poiché, stando alle scritture eccetera eccetera, il bambino era niente meno che l'anticristo, la stella del mattino, il prediletto da Dio, l'incarnazione del male, Belzebù, avete capito. Dopodiché, in quello stesso ottobre, 53 membri del culto vennero trovati morti in tutta la Svizzera. Veleno, colpi di pistola e soffocamento con buste di plastica, alcuni erano sicuramente suicidi, altri invece molto meno di no. Nel 97, 21 ulteriori membri della setta furono trovati morti tra Francia e Quebec, l'Ordine oggi sarebbe ufficialmente estinto, ma si sospetta che delle frange scismatiche continuino a portare avanti la ricerca della loro verità, un mix delirante di teologia, fatalismo apocalittico e ritualità cavalleresca. Numero 6, Los Narcos Atanicos. Tra gli anni 80 e 90, Matamoros in Messico fu casa di un cospicuo e peculiare cartello culto, una specie di setta di narcos satanisti comandati da Adolfo Constanzo e Sara Aldrete, le cui liturgie erano dettate da un mix di convinzioni e credenze rifacentesi per lo più a religioni come la santeria e il palomaiombe. La setta, in cambio spesso di un sacco di soldoni, si occupava di eseguire riti di protezione per i trafficanti di droga messicani, ma anche per figure altolocate del panorama politico. Ovviamente, Constanzo si convinse presto che i riti e i sacrifici che faceva funzionavano meglio, ed erano più potenti, se si usavano agnelli sacrificali umani, vivi, piuttosto che animali o cadaveri esumati dalla tomba. E quindi... e quindi di sicuro sti pazzi il 13 marzo 89 rapirono lo studente americano Mark Kilroy e quello che gli fecero fu orripilante tra macete e bollitura di alcuni suoi resti. Ma sorvoliamo se non mi censurano pure sto video già adesso. Quella però fu anche la cosiddetta cagata fuori dal vaso, perché in poco tempo la polizia messicana sgominò la setta e nel ranch di Constanzo furono trovate armi, droga e altri 15 corpi, sebbene si sospetta che di morti ce ne siano stati molti di più. Alla numero 5, il clan di vampiri. Anche di loro avevamo già parlato, ma rivediamoli un po'. Il 25 novembre del 96, quattro adolescenti di Murray in Kentucky, ovvero Dana Cooper, Scott Anderson, Charity Kreese e Roderick Farrell, fecero un giro a Eustace, Florida, e uccisero Richard e Naomi Wendorf in quello che gli inquirenti descrissero niente meno come un rituale di vampiri. A convincere suo malgrado la setta a colpire, fu proprio Ever, la figlia della coppia, che convince Farrell, autoproclamatosi un vampiro di 500 anni d'età con poteri messianici, dicendogli che i genitori abusavano di lei. Poche ore prima della loro morte, Ever Wendorf era stata iniziata alla setta tramite una bevuta rituale di sangue. Successivamente, Farrell e Anderson fecero eruzione nell'abitazione, uccidendo il signor Wendorf con un piede di porco mentre dormiva, e poi pure la moglie, una volta svegliatasi e accortasi della scena. Ever non fu mai accusata di niente, la si ritenne plagiata, mentre tutti gli altri furono condannati per omicidio di primo e terzo grado. Con Farrell, che fu condannato a morte, 17enne, il più giovane detenuto, ad essere entrato nel braccio. Graziato, credo che sia ancora in prigione con la condanna all'ergastolo. L'elettrico che ha sempre stato un'icona principale nella forma di vita. Alla numero 4, la Chicago Ripper Crew. Primi anni 80, Chicago aveva un piccolo problema con le gang criminali, e in particolare in quel periodo ci furono alcuni rapimenti e omicidi rituali davvero scabrosi, commessi tutti da una piccola congrega di uomini, 4 persone in tutto, guidate dal leader Robin Gecht, che, manco a dirlo, una volta lavorava per un certo John Wayne Gacy. Non vi ricordate chi è Gacy? Recuperate la lista qui a destra. Nell'ottobre 82, due giovani donne riuscirono incredibilmente a scamparla e a sopravvivere al gruppo, e furono poi in grado di identificarne i membri, portando all'arresto di Gecht e del suo complice, Edward Spreitzer, seguiti qualche tempo dopo da quello dei fratelli Andrew e Thomas Kokoraleis. Tutti loro confessarono i rapimenti, le sevizie pseudo-rituali, quantomeno nella ripetitività e nella forma, e ovviamente gli omicidi, tutti a parte Gecht. Spreitzer fu accusato anche di altri due omicidi, non collegati però con la loro gang. Lui e il capo Gecht si beccavano l'ergastolo, Andrew Kokoraleis è stato giustiziato nel 99, Thomas è uscito nel 2019 e ad oggi è un uomo libero. Alla numero 3, il Tempio di Kirtland. Un tempo fedele della chiesa riorganizzata di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, oggi Comunità di Cristo, e di fatto la seconda confessione mormone per numero di fedeli, Geoffrey Langren venne scomunicato dall'organizzazione nell'88. E allora che cosa fece? Ma si creò la sua setta personale, è ovvio. Autoproclamatosi profeta e convinto propugnatore di una dottrina apocalittica, insomma credeva nella seconda venuta nell'armageddon eccetera, Langren raccolse i seguaci in tutto lo stato dell'Ohio, ma il 17 aprile 89, dopo aver deciso che non gli andava più a genio, il decano della comunità invitò a cena la famiglia Evry, i coniugi Dennis e Cheryl con le loro tre figlie, e li uccise tutti e cinque a colpi di pistola, nascondendo poi i corpi in un vicino fienile, per poi sbarazzarsene gettandoli in un pozzo. A gennaio 1990 Langren e la sua famiglia furono arrestati, il profeta fu condannato per rapimento e omicidio di tutte e cinque le sue vittime, e fu spedito nel braccio della morte, da cui lasciò questo mondo in un cappotto di Morgano nell'ottobre 2006, a seguito dell'iniezione letale. Alla numero 2, la setta di Fall River. Del satanic panic degli anni 70 a inizio anni 80 abbiamo già parlato, e detto che fu sostanzialmente una psicosi di massa dettata da oscurantismo, media bigotti e mamme pancine, e ok, ma c'è anche da dire che proprio in quel periodo furono uccise in maniera effettivamente rituale tre giovani donne, Doreen Levesque, Barbara Raposa e Karen Mertzen, tutte ritrovate nella zona di Fall River, Massachusetts. Le tre ragazze erano tutte sex worker legate a doppio filo, lavorativo e cultistico, ad una setta satanico locale guidata dal pappone della zona, Carl Drew. Una delle adepte, Robin Murphy, a processo insieme allo stesso Drew e a Carl Davis, testimoniò in seguito in tribunale che tutte le vittime, e anche lei stessa ed altre, erano state convinte ad adorare il maligno, che Drew le avesse fatto il lavaggio del cervello, e che fosse per questo riuscito a convincerla ad uccidere la Marzen. Più che un vero culto, però pareva più funzionare come il meccanismo del Juju, che spaventa le ragazze nigeriane vittime di tratta, correti pseudo-boudou, e di fatto così permetta alle loro madame, alle pappone e ai trafficanti di poterne controllare vita-morte, e ovviamente entrate economiche. La Murphy accusò anche il collega cultista Andrew Maltè dell'omicidio della Raposa, cioè la sua stessa fidanzata, e l'uomo fu ritenuto colpevole. Drew fu condannato all'ergastolo per l'omicidio di Karen Mertzen. La Murphy ricevette uno sconto per aver collaborato e fu condannata all'ergastolo, ma con possibilità di rilascio sulla parola. Ad oggi, credo che ancora nessuno sia stato condannato per l'omicidio di Dorin Laresc. E se anche a voi l'ergastolo non piace, ma non vi piacciono neppure le sette pseudo-sataniche costruite sul delirio megalomane di qualche debociato, direi che è il caso di cliccare la campanella degli avvisi. E al numero 1, i Davidiani. 1981. Vernon Howell si unisce ad un ramo scismatico della chiesa cristiana avventista del settimo giorno, e fondano tutti insieme in un grosso ranch di Waco, Texas, una comunità religiosa. Nel 1990 Howell cambiò legalmente il suo nome in David Koresh, divenendo il leader del culto che da lì in poi prese formalmente il nome di Davidiani, o Branch Davidians in lingua inglese. Poco megalomane pure lui, Koresh era, come dire, un mostro. Affermando di essere Dio, e allo stesso tempo una specie di prescelto tipo Gesù, ma più figo, giostrava le scritture come più gli pareva, e giostrandosi la comunità, finì con l'avere almeno 20 moglie diverse. Convento sostenitore delle pene corporali come soluzione educativa, Koresh spronava i genitori a massacrare di botte i figli per insegnare loro le norme del credo, il tutto al fine di educare la comunità a un'inevitabile fine del mondo Armageddon battaglia finale che sicuramente si stava per verificare, sì sì, come no. Solo che lui pensava di sconfiggere le forze del male non con le preghiere, o tutt'al più con le spade fiammeggianti delle schiere angeliche. No! Lui pensava che servissero fucili e bombe a mano, e ammassò una santa barbara di esplosivi, munizioni e armi considerevole all'interno della proprietà. Il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, però, se ne rese conto, e il 28 febbraio 1993, il ranch di Huaco venne letteralmente messo sotto assedio da un mix di polizia, FBI e forze dell'ordine varie, assedio che durò 51 giorni. Il 19 aprile, dopo una sparatoria e un massiccio incendio che ancora oggi costituisce un bel mistero per vari motivi, chi lo ha causato, la polizia, lo stesso culto non si è capito al 100%, comunque dopo quasi due mesi l'assedio si concluse, con quattro agenti della TF morti in azione e 82 membri dei Davidiani uccisi, tra cui lo stesso Koresh. Fine pure oggi. Com'è andata? Avete seguito la solita striscia di sangue o ormai ne sentite la Roma come fosse degli squali? Mi raccomando, se sono i commenti caldissimi, che so che ste storie vi colpiscono sempre, spero senza armi bianche di mezzo, lasciatemi uno dei soliti pareri, opinioni e insulti e noi ci rivediamo sempre qui, allo stesso posto.